Si sbrighi? Si sbrighi? Si sbrighi? Si sbrighi? Si sbrighi? Lascia quella bambina? Ho detto si sbrighi? Lascia! Lascia! Mi spiega! Mi spiega! Venisse! Ma come ti dicono, sennò l'ammazzo! C'è capatrici! Tutte le oltre! Tu vieni con me! 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 Sì, sì, sì. Stai, stai! Stai, stai! 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 Stai, stai! Stai, stai! Questa scena è finita! C'è una risposta! Stai, stai, stai! Mmm! Pazza! Ci incontriamo e siamo veramente una roba terrificante perché si è morto! No, 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 perché io! Perché tu vuoi essere la mia foto? No, 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 no! No, no, no! No, no! Ma vuoi, la vuoi! Non vuoi, la vuoi! Non vuoi, la vuoi! Ma vuoi? Stai, la vuoi, la vuoi! Si, ma questo... Sto preparando un bel giochetto per tutti. No, non ho mai vedi. E' il passo della rotta del panco. Alla fine, io sono un po'. E gli uomini? Scusate. Ammion! Ammion! Mia! 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 Ammion! No, no, no! 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 No, no!